Siamo qui oggi a Seguito Expo per rimarcare quella che è la nostra volontà di essere più vicino al territorio dell'Abruzzo in maniera particolare e la sede di Sportore rappresenta sicuramente per noi l'elemento più importante di questo investimento. La territorialità è importante quindi essere vicino agli installatori per offrire i servizi che servono. La giornata di oggi, questo evento in cui abbiamo investito molto in termini di risorse e di sforzo dal punto di vista marketing e visibilità serve proprio per dimostrare quello che è la nostra proposta ai clienti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!